ciao ragazzi oggi street food e voglio farvi conoscere i moli fritti cosa sono i moli fritti adesso ve lo dico subito ed eccolo qui il molo ho detto anche merlano è simile al nasello può arrivare a 50 cm di lunghezza massima è presente nell'adriatico atlantico nel mar nero si ciba di pescioline costaci vive esclusivamente in anche fredde salate 100 grammi di merlano equivalgono a 132 calorie una volta puliti tirato via la testa l'interiore le passiamo nella farina massa boni